E' in programma sabato 13 aprile alle ore 10.30 presso il porto di Agropoli, puliamo il porto. L'iniziativa dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Adamo Coppola vedrà la collaborazione con i diving center di Agropoli. La mattinata consisterà nella polizia dei fondali portuali, invasi da plastica, cime in disuso, motori di barche affondati, pneumatici e qualsiasi altro materiale che purtroppo una volta indossato nel porto non è più uscito. All'evento parteciperanno alcune classi dell'istituto comprensivo Vairo di Agropoli. Restituiamo dignità all'area portuale, afferma il sindaco Adamo Coppola, grazie ad un'azione di pulizia che verrà effettuata da una serie di diving del posto, i cui sub si immergeranno e tireranno fuori tutti i rifiuti presenti. Un gesto che guarda l'ambiente e mira restituire bellezza al nostro porto. L'evento di sabato, dichiara il vice sindaco adesso del porto del Demanio e Eugenio Benevento, condizioni meteo permettendo, tende a ripulire un'area in base a rifiuti di ogni genere. Sarà rimosso tutto quanto è stato accumulato negli anni, che oltre ad essere fattori inquinanti, costituiscono un brutto colpo d'occhio. Sono azioni che ci impegniamo a svolgere con costanza al fine della salvaguarda dell'ambiente marino e, grazie alla partecipazione di alcune classi delle scuole medie, miriamo anche a sensibilizzare i più giovani su un problema di stretta totalità come l'inquinamento del mare.